Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti, come state? Spero bene. Il calciomercato ha chiuso la sua finestra estiva il 30 agosto, alla mezzanotte di venerdì scorso. Eppure si parla ancora di calciomercato. Perché? Perché ovviamente il mercato degli svincolati è ancora aperto. Puoi tesserare uno svincolato quando ti pari, sostanzialmente senza squadra, tu lo puoi tesserare. Anche perché la Lazio ha presentato la lista per la Serie A, la lista dei 25, ma da un paio anni da questa parte possono esserci due modifiche. Ovvero tu da qua fino a gennaio, quando riapre la lista perché c'è il calciomercato invernale, puoi fare due sostituzioni. E quindi tu puoi comprare un giocatore, che ne so, a ottobre e inserirlo nella lista togliendo un giocatore in lista attuale o aggiungendolo se c'è spazio. Per cui si continua a parlare di mercato dei svincolati. Si parla anche di Lazio che potrebbe prendere qualche svincolato. Il problema qual è? È che Claudio Lutito non ha praticamente mai preso giocatori svincolati. Non ha mai operato dopo la chiusura della finestra di mercato estivo. E quindi sembra difficile che possa succedere adesso. Bisogna dire una cosa. Che in passato soprattutto i giocatori svincolati erano giocatori in l'accogliani o giocatori che erano stati scartati perché troppo spesso infortunati. Per cui negli anni precedenti ti ritrovavi a disposizione giocatori di 33-34 anni, magari con passati forti ma giocatori in l'accogliani oppure giocatori più giovani ma con uno storico di infortuni incredibile. E quindi quasi mai valeva la pena. Negli ultimi anni le cose sono cambiate. Sono cambiate perché i giocatori hanno sempre più in mano il potere contrattuale e molti giocatori preferiscono non rinnovare con un club e ritrovarsi senza nessun club per poi trattare e decidere il proprio futuro. Di Bala è un esempio, no? Di Bala non ha rinnovato con la Juventus e poi ha prodato alla Roma. Ma ci sono tanti giocatori che negli ultimi anni si ritrovano svincolati non perché il club di appartenenza non li volesse tenere ma perché loro hanno fatto scelte diverse. L'esempio Rabiot di quest'estate è evidente. Rabiot era stato uno forse dei migliori giocatori da Juventus dello scorso anno, non ha trovato l'accordo con la Juve perché voleva tanti soldi. Rabiot attualmente è ancora svincolato, sta cercando la giusta opportunità. Ma non si può dire che Rabiot non sarebbe un bel giocatore. Certo, fuori i parametri della Lazio, chiariamo. Però prendere Rabiot a zero sarebbe un grandissimo colpo. Per cui ci sono attualmente giocatori svincolati molto interessati, cosa che due, tre, quattro anni fa era impossibile. Per cui il mercato dei svincolati è cambiato radicalmente e si possono fare affari nel mercato dei svincolati. Il problema che riguarda la Lazio è che prendere un giocatore svincolato significa pagargli uno stipendio importante e quindi sappiamo che Lotito ha abbassato, soprattutto quest'estate, il monte stipendi e quindi è difficile che la Lazio andrà a spendere tanti soldi su un giocatore svincolato. Dalla Francia, l'Equipe, che dovrebbe essere un giornale molto autorevole, ha dichiarato che l'ex Lille, gli Azici, è in trattativa con la Lazio. Quanto c'è di vero in questa dichiarazione? Beh, sembrerebbe non tantissimo. Perché in realtà sembrerebbe che gli Azici sia in trattativa anche con l'Union Piancos e anzi sia in fase molto avanzata con il club greco e quindi stia preparando addirittura il volo per la Grecia. Quindi gli Azici che, ripeto, giovane, 27 anni, giocatore interessante, la Lazio l'ha seguito per tanti anni, per cui sarebbe stato un buon acquisto, però in realtà sarebbe trattativa con l'Union Piancos e la Lazio non avrebbe mai affondato il colpo. Però è un giocatore che sarebbe stato interessante, no? La Lazio cercava, almeno così si diceva, un trequartista, gli Azici potrebbe ricoprire benissimo il ruolo. C'è da dire due cose. Perché la Lazio non affonda il colpo sui Azici? Due motivi. Uno, lo stipendio. Perché evidentemente il giocatore chiede uno stipendio importante e poi c'è da considerare una cosa che in pochi ricordano, ovvero la commissione dell'agente. Il giocatore svincolato, l'agente chiederà un bonus importante e lo sapete bene che l'Otito non ama, anzi odia pagare i bonus agli agenti e quindi già questo rende la trattativa difficile. Ma il vero problema della Lazio è il problema lista. Perché la Lazio non ha piazzato nessuno degli esuberi al momento e Isai, che è stato inserito fuori lista, è ancora sotto libro paga della Lazio e prende sacchi di soldi, quindi mi sembrerebbe difficile che la Lazio fa prendere gli Azici e mette fuori rosa un Pedro. Pedro che ha uno dei stipendi più importanti in casa Lazio, tu lo metti fuori rosa significa pagare Pedro 3.2 milioni, mi sembra sia lo stipendio netto di Pedro, per stare a Formello a correre. Ecco, per cui per me non arriveranno svincolati in casa Lazio, ma anzi da qui fino al 5 settembre la Lazio proverà a chiudere qualche uscita. Toma Basic è in trattativa per tornare in Croazia, il mercato la chiude il 5 settembre, per questo ho detto la data del 5 settembre, ma non c'è solo Basic, c'è Akpak Pro che non ha trovato nessuna sistemazione, c'è Andre Anderson che non ha trovato sistemazione, c'è Isai. Insomma, la Lazio si deve impegnare più che nel mercato d'entrata, che ormai è chiuso nel mercato d'uscita per trovare sistemazione a tutti gli esuberi bianco celesti. Per cui, gli Azici mi piacerebbe, ma è obiettivamente un nome che difficilmente la Lazio porterà a casa. Ovviamente questo è il mio giudizio, qual è il tuo? Scrivono e metti qua sotto, noi ci troviamo prossimamente in un altro video. Grazie ragazzi! Grazie a tutti!